Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video di FIFA 18 Mobile E si ragazzi non è un titolo falso, ho trovato davvero Messi in un pacchetto giornaliero Stavo giocando appunto per prendermi le ricompense, quelle giornaliere, delle attività Ho aperto un pacchetto delle 4 ore e questa è la screen che sono riuscito a fare di quel pacchetto ragazzi Messi 89 Che messo nella mia squadra ragazzi è diventata una bestia di 91 di overall Con un potenziamento di più 2 ragazzi Ci ho visto quando apri un pacchetto così perché vanno a prendere FIFA Point e cazzi e mazzi Insomma no, l'apri così e via, boom, ti appare una carta rossa, ti appare un giocatore rosso, boom E poi Lionel Messi, rimanico E poi ti dici ma che cazzo, cioè non è possibile la nostra del genere in un pacchetto giornaliero Che la gente ci spende anche tanti soldi per cercare di trovare Messi Abbiamo una squadra veramente che sta crescendo tantissimo Cristiano Ronaldo, Muriel, Messi, Griezmann, Gabby Alli Ora stiamo accumulando tantissimo anche FIFA Point, tanti crediti Tra poi ci faremo anche un altro bellissimo spacchettamento Bello, bello, bello Intanto come vedete siamo arrivati finalmente a Lega Esperto 3 quindi E quindi abbiamo finalmente tutto quanto in regola per entrare nella Weekend League ragazzi Intanto però c'è questo nuovo aggiornamento, questo nuovo update delle icone Che devo assolutamente andare a vedere Intanto ho visto nel negozio, ci sono dei pacchetti gratuiti E-Sport Kit Pack Voglio vedere che cosa è Ah, è una maglietta Una casacca Prendiamocela, va bene Abbiamo preso comunque un pacchetto E quindi ci dà il bonus quello giornaliero Quindi comunque andiamo a prenderlo Vediamo un po' Se c'è soltanto la caoca Soltanto questa qui Che comunque vabbè È carina, bellina, bellina Ce la possiamo benissimo anche utilizzare Ci dovrebbe essere anche il pacchetto gratuito Che chissà magari esculiamo un'altra volta Un Cristianuccio Ronaldo di quelli belli belli Proviamo, dai E poi qui apri Za-za-za Veloce-veloce Boom Ti appara in messa E vabbè Cain stavolta 66 Argentone Non ci interessa assolutamente Allora ragazzi Andiamo a vedere Non ci dovrebbe essere altri pacchetti interessanti Cioè I pacchetti interessanti ci sono Ma costano Non le voglio spacchettare Ci sono le icone Quindi vediamo un po' di cosa si tratta Abbiamo intanto anche il torneo Quindi possiamo benissimo anche vedere Come funziona questo torneo Vabbè Ci sono anche altri incontri Tanto-tanto-tanto-tanto da fare, però voglio vedere cosa sono queste icone, come funziona l'evento delle icone, benvenuto nelle icone per ottenere un giocatore di icone di risalto devi creare una squadra non credo di rientrarci ma e avere almeno 5 giocatori della loro nazione relativa ai titolari, perfetto allora che abbiamo? Abbiamo Owen Ronaldinho, Maldini, eh FD e basta, per il momento soltanto loro che sono veramente dei giocatori molto forti direi allora, 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 le icone sono un gruppo di giocatori prestigiosi che hanno lasciato il segno della storia del calcio, 3 nuove icone saranno scudibili ogni 2 settimane, questo evento c'è ogni 2 settimane l'ottimento delle icone sbloccherà un nuovo capitolo, bla bla bla, perfetto ragazzi quindi non possiamo assolutamente fare niente perché non abbiamo una squadra WGN almeno di 90 e quindi Ciccia, però è un obiettivo comunque da raggiungere ragazzi, quindi possiamo benissimo andare a vedere di cosa si tratta il torneino, il weekend league ragazzi oggi infatti è sabato e possiamo benissimo andare a vedere come funziona, io ho arrivato a Lega Esperto e mi hanno dato dei biglietti, quindi vediamo un po' uso i biglietti esperto leggendo a campione da premi verso l'attacco per competere in un numero limitato di partite torneo ogni vittoria ti segnerà un punto torneo e ti farà avanzare per ottenere premi migliori, bla 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 ok ragazzi, allora, vediamo un po', dovremmo andare direttamente qui e ci sarà una battaglia scambio i biglietti esperto da premi verso l'attacco per sbloccare la partita torneo, allora quindi usiamo i 30 punti, ci da 15 energia e si va subito al torneo, quindi allora, vince questa partita per avanzare e ottenere premi torneo questo è tutto il ricompense oh, sti gazzi, c'è Owen mi sa che non sarà semplice assolutamente c'è anche Vidal e proviamo ragazzi vediamo un po' quanto quanto è difficile quanti buchi nella rete ci faranno veramente sti non so se ah, è PvP bene PvP, perfetto siamo contro un 82-82 una bella lotta direi è una bella lotta, vediamo un po' se riusciamo a vincere non lo so, proviamoci eh dovrebbe essere veramente forte questo tizio questo signorotto questo ragazzone vediamo un po', dai BAM ragazzi, c'è mancato resente al palo dai Messi Messi è una furia è veramente una pippa dai ce la possiamo fare dai ce la possiamo fare lui ancora non ha segnato perché parlo perché parlo vedi attenzione pello netto dalla lontananza oh, castigato il portiere 2-2 Morata non va assolutamente bene un gol lì un gol lui attenzione a Messi la mette angolata oh, 3-3 non si riesce a vincere qui ragazzi è una partita veramente resicata attenzione a Messi che adesso oh oh, niente stavolta parata ma non ha segnato nemmeno lui quindi c'è speranza calcio d'angolo colpo di col 4-3 per lui non sta andando bene dai Messi vediamo un po' se riusciamo a no 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 ah lì ah lì ah lì ah lì ah lì è lì è lì è lì no ok Messi sei l'ultima speranza per il padre ah mannaggia dai no oh è calcio d'angolo però vero bravo 5-3 ragazzi è finita abbiamo perso questo cosa sta succedendo lì madonna che lavoro però è gol a caso però abbiamo perso purtroppo 6-4 non ci siamo comportati malissimo come funziona adesso questo punto l'energia funziona sempre 1 devo ricaricare a 30 ah comunque ho fatto una lotta pvp quindi me la conta ah siamo a 77 energie addirittura no ci conta comunque un'energia alla volta il torneo finisce tra 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 37 ore quindi vabbè due giorni quindi dai possiamo benissimo riuscire a fare qualcosa vediamo un po' adesso un altro avversario dai è questa però è una squadra totalmente rossa non portiere 82 moronna allora 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 liberiamoci di questo difensore qui una Veronica qua oh oh e Muriel Muriel attenzione vieni sveglia portiere sveglia era lì la valla svegliati dai Messi dai oh Lionel Messi 2-2-2 attenzione attenzione a Muriel oh rigore rigore dai la rigore che arbitraccio madonna ragazzi 3-3 signori sotto l'ingrocio dei pali perché Cristiano Ronaldo sta qua perché sta qua devi stare attacco madonna anche te dai madonna sì no ok eccovi l'ho segnato attenzione però oh questo portiere è una saraginesca para anche il budello attenzione però dalle distanza ottima occasione potrei fare benissimo un palonetto al portiere che non ci arriva 4-5 ultima occasione ragazzi questa è l'ultima occasione a tempo scaduto a tempo scaduto perché caccio d'angolo questo traversa oh 5-5 cosa succede adesso ci danno dei punti oppure serve per forza una vittoria come funziona sta cosa vai all'attività perché cosa ho fatto ma non mi hanno dato niente devo per forza vincere ragazzi vede ax no mi sa che con 3 sconfitte siamo fuori siamo a casa ragazzi mi sa che vedi quella x su sconfitte arriviamo a 3 x e te ne vai a casa ragazzi allora vogliamo andare a vedere cosa ho fatto in attività perché me lo ha dato le diverse ah segna 5 gol ok vabbè era semplice poi vabbè li prendo tutti insieme voglio farmi un'altra battaglia dai non mi voglio da per vinto no ho sbagliato questi sono quelli dell'icona io devo proprio cancellarlo per almeno un mese o due non devo pensarci assolutamente ok lui è un oh tanto no è molto molto equilibrato bene bene a volte i trovi degli avversari sono 70 75 li fai di buchi Rossi ma nasa quindi magari sono bugati e le fanno loro dai partiamo subito veloce così almeno ci ritorna la palla noi vediamo un po' attenzione messi da solo messi da solo fuori aria al tiro angolato sotto la traversa all'incrocio dei pali gol gol di me attenzione non è fuori gioco il gioco ci dice non è fuori gioco io provo un pallone griezmann ha segnato il suo però il suo attenzione dai cerchiamo di concentrarci ragazzi non facciamo stronzate dai muriel il tiro e la porta maledetta questa questa porta è maledetta allora cristiano ronaldo da solo lassù io metterei la palla in mezzo e ti e ti la madirizione della porta oh 2 a 2 e poi segno segna lui questa cosa però non va per niente bene ragazzi non mi va per niente bene attenzione attenzione 3 3 a 3 ha segnato anche lui non è possibile non è possibile però ha fatto un bel gol messi attenzione griezmann ha segnato dobbiamo segnare per forza anche noi 4 a quadra non si può le pareggia come De Rossi non si può le pareggia porca miseria guardate ultima occasione e niente oh si va a pareggia di nuovo almeno non ci sia l'ultima occasione l'ultimi niente pareggio è impossibile è veramente difficile però è bello sì perché è veramente impegnativo impegnativo al massimo direi e ti dà comunque dei buoni bottini siamo comunque a 162 mila crediti io direi di arrivare almeno intorno ai 300 mila così avremo anche tanti altri fifa point ci faremo un bello spacchettamento e cerchiamo di portarci in alto la nostra squadra road to 90 di overall ragazzi dobbiamo più forza ormai eliminare gli altri 3 ori cerchiamo di portare almeno a livello elite maestro se ci riusciremo intanto il nostro messi 91 ci farà dal leader della nostra squadra ragazzi il capitano messi grande a questo punto andiamo qua nell'italian legacy e cominciamo un nuovo torneo ragazzi troviamo l'avversario per il momento l'abbiamo vinti sempre tutti quanti quindi andiamo a cercare un nuovo avversario così ci faremo un altro bel torneo se vinciamo prendiamo altri altri punti lega e ci spacchettiamo altri bei pacchetti e altri potenziali speriamo il nostro nuovo giocatore messi dia tutto quanto se stesso ragazzi è il più forte giocatore ragazzi che abbiamo quindi dai sotto con le vittorie nel campionato nella weekend league se questo è il episodio ragazzi vi è piaciuto vi invito a lasciare tanti tanti like noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti